In questa riflessione fotografica voglio parlare delle fasi che passa il fotomatore, dal momento in cui scopre la fotocamera al momento in cui arriva a uno stato evolutivo di maturazione e di capacità sia tecnica ma anche artistica. Bene, vi racconto qual è il percorso e prova a riflettere su te stesso per valutare in quale fase ti trovi in questo momento. Ben arrivati in questa riflessione fotografica, sono episodi, video, insomma, nei quali parlo di tutto ciò che riguarda il mondo della fotografia. Oggi voglio toccare un tema interessante e importante che avevo già fatto nell'altro canale, magari nel quale tu mi avevi già visto in passato. Voglio parlare delle fasi del fotomatore e quindi voglio fare questa riflessione fotografica a distanza di alcuni anni e, diciamo, aggiungere o togliere degli elementi perché effettivamente la fotografia, come immagino ti starai accorgendo, sta cambiando in maniera importante e quindi proviamo a declinarla in chiave più attuale. Allora, queste fasi sono fasi che effettivamente io ho riscontrato attraverso su me stesso, in primis, la cosa più importante, ma anche attraverso l'osservazione dei fotomatori, insomma, delle persone che sono appassionate di fotografia con le quali faccio consulenze con cui vedo e conosco durante i corsi, i workshop, sia in presenza che online. Tra l'altro, a proposito di corsi, se fossi interessato a investire su te stesso, in descrizione lascio i link ai nostri corsi di fotografia online e anche ai nostri workshop, quindi vai in descrizione e troverai i link alle pagine che ti spiegano, insomma, a cosa puoi imparare. Lo dico sempre, investiamo su noi stessi e oggi capirai perché è così importante. Comunque, queste fasi, dicevo, arrivano proprio dall'osservazione. A me piace veramente tanto osservare i fotomatori, le persone, insomma, i fotografi, così come quando mi sono occupato per diversi anni, ho avuto, insomma, un centro stampa e stampavo per fotografi che esponevano in galleria fotografica, io, quando chiacchieravo con loro, mi interessava tantissimo capire la loro attitudine, il loro modo di pensare e così via, perché spesso è proprio dall'atteggiamento, dal modo di ragionare che tu capisci effettivamente che cosa ha permesso alla persona di fare quel salto di qualità che magari ognuno di noi spera di fare. Allora, queste fasi penso che le attraversano un pochino tutte. Poi mi direi tu nei commenti, perché l'idea è sempre quella di lasciare dei commenti, insomma, le riflessioni sono dei trigger, sono degli spunti attraverso i quali ognuno può esprimere la propria opinione, ovviamente in descrizione al video, se stai guardando su YouTube. Ad ogni modo, partiamo dalla prima fase. Ragazzi, la prima fase è una fase bellissima, che è la fase del principiante, cioè come dire, la fase, io all'epoca la definì dell'innamoramento e credo che ancora oggi possa essere definito, insomma, possa essere utilizzato questo termine. È la fase nella quale scopri la fotografia. All'inizio la scopri perché cominci a fotografare con lo smartphone e effettivamente ti accorgi che ti piace. Un tempo si fotografava con le compatte, con le bridge, no? Se andavi in vacanza cominciavi a scoprire che la fotografia effettivamente ti piaceva. E così fu, ad esempio, per me. Io ovviamente sono partito con l'analogico e ovviamente ho fatto anche tutto il percorso digitale, però è quel momento, quella scintilla, in cui ti rendi conto che la fotografia ti piace, che fotografare, più che la fotografia che fotografare, ti piace. E fotografi praticamente di tutto. È una fase bellissima, è una fase spensierata. Ecco, forse quello che mi viene da pensare è una fase libera, perché non hai preoccupazioni dal punto di vista tecnico, non te ne frega niente della tecnica, spesso scatti in totale automatismo, non ti frega niente dell'archiviazione, spesso scatti in JPEG, non sai nemmeno cosa sono i formati del file, quindi insomma la qualità del file e così via. Non te ne frega niente degli obiettivi, non ti frega nulla, cioè un obiettivo 5-6 ti sembra un obiettivo incredibile, cioè gli obiettivi quelli venduti in kit, no? Vi ricordate che ci sono ancora i plasticotti fatte con le lenti in resine, insomma, piuttosto voi, 3-5-5-6, insomma, ti sembra di avere in sostanza in mano il tesoro. Cioè la prima fotocamera, spesso entry-level, super entry-level, oggi è un pochino diverso, in effetti le fotocamere proprio entry-level sono un po' scomparse, quindi onestamente è un po' cambiato rispetto agli anni passati. Rispetto agli anni passati tu andavi al Media World, al centro, al Comet di turno, insomma, quello che è la grande distribuzione, e il ragazzetto di turno ti appioppava la fotocamera che dovevano smaltire, no? In quel momento, e quindi tu uscivi fuori con la tua bella Canon, la tua bella Nikon, magari con chi era più fortunato, aveva addirittura il doppio kit fotografico, col doppio zoom, no? Quindi avevi il 18-55, il 50-200, più o meno, insomma, erano sempre queste le focali, e ti sentivi un re. Cioè tu praticamente, ovviamente non sapevi neanche chi fosse Bresson, però ti sentivi Bresson. Cioè è una fase proprio bellissima, ma che ho ovviamente attraversato anch'io. Io ricordo ancora la prima volta che vedi una macchina fotografica, diciamo, seria, cioè mi sembrava come se dovessi pilotare un caccia stealth, cioè una cosa bellissima. Ed è una fase in cui tu fotografi tutto. Cioè qualsiasi cosa tu lo fotografi. Hai questo bisogno irrefrenabile di fotografare praticamente tutto. Torni dalla vacanza con 8 miliardi di fotografie. Adesso, a differenza di ieri, mentre fotografi, spesso le condividi immediatamente sui social, quindi non c'è un filtro di lucidità per dire guarda che questa foto fa cagare, cioè non pubblicarla, perché ti prendono in giro pure gli algoritmi di Instagram. Ma comunque, a prescindere da questo, cioè tu sei libero, sei veramente libero, non ti frega niente, dicevo, della tecnica, e vivi felice e sereno. Poi cosa succede? Che appassionandoti alla fotografia, cominci a guardare i social. Oggi più di ieri. Un tempo la cosa classica era mi scrivo un corso di fotografia. Spesso ti scriveva la moglie, che soprattutto le moglie sono sempre un po' più lucide, a volte anche carogne, però sono sempre lucide, nel senso se ne devono conto che le tue fotografie facevano cagare in maniera devastante, quindi dice, vabbè, io lo dico perché ci rimane male, lo scrivo a un corso di fotografia. Era un modo un po' giapponese, sapete, i giapponesi non è che ti dicono come gli italiani, ma vai a cagare, ci girano intorno un po' eticamente. E allora ti scrivono a un corso di fotografia, come dire, ma ti faccio questo regalo, e intanto dice, finalmente c'è una foto decente, anche io. E tu vai al corso di fotografia, andavi, perché adesso, insomma, stanno scomparendo anche quelle, è il corso di fotografia a base. E lì inizia la seconda fase, la fase della, chiamiamola, consapevolezza tecnica, ok? Io l'ho definita la fase della consapevolezza tecnica, cioè ti rendi conto che per fare fotografie di qualità occorre di qualità, insomma, fare delle fotografie migliori rispetto al totalmente in automatismo, al fare la foto dove il bambino viene preso dall'alto, magari con gli occhi rossi, eccetera, eccetera, perché hai sparaflesciato il flash, quello insomma, della camera, e così via, tenendo conto che devi imparare la tecnica fotografica, quindi vai a questo corso, andavi a questo corso di fotografia a base, alcuni ci vanno ancora, grazie a Dio ancora i circoli ancora esistono, oppure cominci a girare nella rete. Ora qui i discorsi sono molto diversi, perché chi segue il percorso tradizionale, quindi si iscrive a un corso di fotografia in un circolo, cosa che io ancora oggi suggerisco, quantomeno si confronta con altri fotomatori che sono lì, o addirittura professionisti che sono lì nel circolo, che ti danno, ovviamente, ti passano un po' la loro esperienza, nel bene e nel male, però ti aiutano a crescere, insomma, ti indirizzano un po', diciamo, il percorso. Mentre se tu vai sui social, ragazzi, la cosa è più complicata, perché passando per i social, lì tu non sai effettivamente se la persona, a prescindere dalle visualizzazioni, è una persona competente oppure qua 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 qua. Purtroppo nel mondo di internet è pieno di scappati di casa, ma è pienissimo di improvvisati, di persone che sono veramente poco competenti, però si sanno vendere e quindi acquistano quella credibilità che tu, insomma, in qualche modo stai ricercando e quindi entri in un loop e purtroppo ti fanno perdere un sacco di tempo, però piano piano districandosi tra un ostacolo e l'altro, tra un falso mito e l'altro, piano piano cominci a capire, insomma, come funziona la fotocamera. Oggi poi c'è la complessità delle fotocamere, una volta era molto più semplice imparare le fotocamere perché erano proprio basiche, cioè non è che ci fosse granché. Oggi una delle grandi difficoltà che le persone vivono in questa fase, cioè della scoperta diciamo della tecnica, insomma, che lo strumento bisogna conoscere, la tecnica bisogna conoscere, insomma, questo è un po' il concetto, è diventata molto più complessa e paradossalmente mentre prima tu ti concentravi tanto sulla tecnica, adesso si concentrano molto su come impostare la fotocamera di turno. È un po' cambiata rispetto al passato, per questo ho deciso di rifare questa riflessione fotografica. Però è una fase in cui cominci a capire diciamo come funziona, appunto, quali sono gli elementi chiave per una fotografia. Non si parla ancora di buona fotografia, non sai neanche che cos'è una buona fotografia, cioè al massimo cerchi di arrivare a una bella foto, insomma, ma niente di più. È una fase oggettivamente meno bella rispetto alla precedente perché è una fase più faticosa, è come quando tu cominci a imparare uno strumento, la chitarra, io sono la batteria e così via. Io ricordo le lezioni, quando andavo le prime volte ti facevano fare i rudimenti, i rudimenti erano degli esercizi che ti servivano appunto per sviluppare insomma della tecnica e così via, erano due palle fotoniche, cioè una cosa di una noia devastante, ma soprattutto era faticoso perché dovevi impegnarti, cioè tu volevi suonare ma in realtà devi fare ti, 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 cioè devi fare una roba completamente diversa, cioè proprio noioso e faticoso. È quindi una fase che sicuramente è meno bella e alcuni lì c'è un primo filtro ragazzi, c'è un primo filtro perché ogni fase tra una fase e l'altra c'è un filtro diciamolo, chiamiamolo naturale che è direttamente proporzionale alla passione che tu hai perché quello che alla fine come dire il carburante che manda avanti la fase, il percorso evolutivo di un fotomatore è proprio il livello di passione, non tutti hanno la stessa passione, il fotomatore è appassionato, ma non tutti, ci sono quelli che sono più appassionati e quelli che sono meno appassionati. Quindi le persone che non hanno tutta questa passione tornano allo stato iniziale, cioè anzi addirittura abbandonano la fotocamera e tornano allo smartphone, cioè dicono ma troppo complicato, ma chi me lo fa fare, ma a me va di fare esercizio, poi trovano le scuse non ho tempo e devo portare il cane fuori e ho la spazzatura, devo fare la raccolta differenziata, insomma ogni pippa è buona per non fotografare o non fare esercizi e quindi appunto tornano alla prima fase o addirittura alla fase zero, cioè lasciano completamente perdere la fotografia in senso come passione. Poi ci sono invece quelli che hanno una vera passione che gli spinge a fare esercizi e quindi entrano nella terza fase. La fase purtroppo ragazzi è la più brutta in assoluto, fase che ci passano praticamente tutti quanti, tutti, ci sono passato anch'io, ci passano tutti, è praticamente inevitabile, sono pochissimi, io non ho conosciuti, guardate, io l'ho fatto, non conto i corsi di fotografia perché lì non so quante persone sono passate, ma sicuramente di consulenze mi ricorderò 4-5 persone che hanno bypassato questa fase. Voi direte, che fase è? È la fase della trezzatura. È una fase che purtroppo dicevo ci passano tutti quanti, è la fase più brutta nella quale tu perdi il focus, cioè mentre nella prima eri inconsapevole, però insomma fotografavi, pensavi al tuo piacere, era proprio una fase come dire ludica e ci sta, nella seconda fase, è una fase dove tu sei concentrato su investire su te stesso, sulla tua crescita personale, su imparare la tecnica, capire come funzionano le cose, eccetera, eccetera, la terza fase ragazzi è la fase in cui sei portato il tuo focus è rivolto all'esterno, ok? In sostanza guardi l'attrezzatura, cominci a credere che se non ottieni certi risultati è colpa del micro 4 terzi, del formato APS-C, di quella fotocamera che non c'è il tracciamento dell'occhio, ma quell'obiettivo non c'è lo sfogato che dico io, ma che t'ha fatto sta fotocamera, ma che schifo questo e così via. E tutto il tuo focus è nel capire, nel studiare l'attrezzatura, guardare cosa fa quello piuttosto che l'altro andare sui forum e perdere tempo in diatribe inutili su micro 4 terzi piuttosto full frame eccetera eccetera. Ora, la consapevolezza sullo strumento è importante, io lo dico sempre ragazzi, alcuni a volte ci criticano, parlate dell'attrezzatura, ma ragazzi le fotografie si fanno con l'attrezzatura, cioè è parte della fotografia e lo era anche in passato, magari parlavi di chimica, di prodotti chimici, di modalità di sviluppo, ma insomma sostanzialmente quello era. E attenzione, però, a non farlo diventare, come dicevo poco fa, il tuo focus principale, dove tu passi la maggior parte del tempo e soprattutto nel credere che se comprerai quella fotocamera o se passerai dal micro 4 terzi full frame allora diventerai un grande fotografo. Questo purtroppo è un meccanismo, è una sorta di purgatorio di girone dantesco nel quale, dicevo, ci cadono praticamente tutti e purtroppo la maggior parte non esce da questo purgatorio, da questo girone. Rimangono nel girone degli insoddisfatti, dei frustrati, cioè le persone che alla fine prendono l'attrezzatura e cominciano a utilizzarla e poi non mi piace, no, e cambiano. All'inizio c'è energia e poi dopo è proprio un meccanismo, no? Cioè, avete presente? e questa è una fase complicata, complicata perché sì, c'è l'entusiasmo, l'emozione ad avere una fotocamera nuova, un obiettivo nuovo, cose di questo tipo che per l'amor del cielo all'inizio ci può stare, spesso chi fa il corso base poi dopo capisci che la fotocamera che aveva comprata all'inizio era veramente troppo basica e quindi magari fa un upgrade, per questo io dico, ho sempre detto chi mi segue lo sa, è meglio anche quando tu inizi a fotografare, compra una fotocamera usata, magari di qualche anno fa, ma una fotocamera professionale o quantomeno semiprofessionale, cioè non prendere l'entry level perché l'entry level spesso hanno proprio delle limitazioni sui comandi stessi della fotocamera, cioè non hanno magari la doppia ghiera, devi premere un pulsante e poi girare la ghiera, cioè ti vai a complicare ulteriormente la vita, allora prenditi una fotocamera professionale, ripeto, di 4-5 anni fa e continui a utilizzarla per degli anni, stessa cosa per gli obiettivi, insomma questo è un po' il concetto, andare a prendere una ciofega di obiettivo perché tanto poi lo cambierai sicuramente e quindi spendi due volte i soldi. E la fase, la terza, insomma diciamo questa fase qui è la fase proprio delle seghe mentali, cioè proprio rischi la cecità, cioè questa è una fase in cui sei effettivamente cieco, cioè sei talmente concentrato sull'attrezzatura che diventi cieco in sostanza. Perché dico la fase delle seghe mentali? Perché è in megapixel, è cattafatto in megapixel, tra l'altro ragazzi se volete per aiutarvi a superare questa fase andatevi a vedere il fototutorial nel canale su quanti megapixel servono perché è veramente secondo me illuminante, andatevelo a vedere e poi deciderete voi se siete in contenuto di qualità oppure no. Comunque è la fase di megapixel, è del rumore, uh, guarda sta grana qua, è una cosa inaccettabile, ma come può Nikon fare una fotocamera che ha il 400% di fa vedere la grana, ma io non c'è più religione, ma è una cosa viviamo in un mondo schifoso, a confronto alla guerra in Israele è niente, cioè sei veramente in un loop talmente ridicolo che non ti rendi conto di essere ridicolo, cioè non ci si rende conto, ragazzi, non ci si rende conto perché sapete, no, quando sei in uno stato ipnotico e spesso devo dire che i social hanno catalizzato enormemente questo meccanismo, anche noi youtubers devo dire che abbiamo una bella responsabilità da questo punto di vista, spero, nel nostro caso meno, speriamo, altrimenti abbiamo mancato anche noi, in cui ti vedi 10.000 video, no, non è che ti vai a vedere il video dell'autore della fotografia per imparare certe cose, no, tu vai a vederti il video sulla come ridurre il rumore in 10 mosse, mai più rumore grazie al software Cipalippa, poi adesso c'è l'intelligenza artificiale, utilizza l'intelligenza artificiale e sarai un essere paranormale, cioè tutte queste cose qua, io ragazzi sto cazzeggiando un pochino, però se sei in quella fase e sei onesto, insomma ti stai guardando allo specchio e sarai d'accordo che è una cosa assolutamente vera, quindi la fase delle seghe mentali, dicevo, difficilmente si passa alla fase 4, qual è la fase 4? La fase 4 è quando cominci a renderti conto oppure te ne fa rendere conto tua moglie a suon di bastonate che, oppure lo sportellista della banca, insomma qualcuno o tu o qualcun altro ti fa rendere conto che hai speso un sacco di soldi inutilmente, hai cambiato 50 volte sistema fotografico, ma sostanzialmente sei rimasto lì, cioè è proprio, dicevo, un girone. E allora cominci a renderti conto che l'attrezzatura, sì, per amore del cielo, è importante, nel senso che a seconda un po' il tuo modo di fotografare, perché fai un certo tipo di fotografia, ti servono certi strumenti, quindi hai un'attrezzatura sicuramente più mirata, ma perde di appeal. Sì, per amore del cielo, sei ancora attratto, perché soprattutto maschietti, il giochino, insomma ci fa sempre gola, però molto meno, cioè l'attrezzatura è molto molto meno importante, cominci a capire che less is more, l'avevo detto in passato, lo ripeto, perché è assolutamente vero, cioè cominci a toglierti il fotomatore nella fase 3, compra un miliardo di obiettivi, di fotocamere, di cose, eccetera, il fotomatore che ha fatto una certa fase comincia a prendere proprio l'attrezzatura che gli serve, insomma è un pochino più selettivo, compra oggetti, cioè prodotti veramente di qualità, non semplicemente perché hanno la supercazzola tecnologica, cioè cominciano a prendere consapevolezza di cosa è realmente importante nell'attrezzatura fotografica e ti concentri per la prima volta sullo studio degli autori della fotografia, ma lo fai in una sorta di copia carbone, ora chi è un ragazzetto non sa che significa copia carbone, era praticamente dei fogli che tu mettevi tra un foglio e un altro di carta e tu scrivendo ricopiavi quello sotto, insomma, quello che avevi scritto nel foglio sopra. Al di là di questo in sostanza tendi ad imitare le foto dei grandi fotografi, quindi ti metti lì e vai a scopiazzare. È una fase necessaria questa? Sì, perché comunque è uno stimolo per imparare a elevare anche la tua tecnica fotografica, il tuo livello fotografico. Quindi la fase 4 è una fase molto molto importante. È una fase che in qualche modo prelude all'ultima fase, però non tutti ci arrivano, perché ci sono fotomatori che arrivano alla fase 4, cioè si cominciano a concentrarsi, tornano a concentrarsi su di sé, su proprie capacità, sul fare fotografia, studiano un pochino gli autori, tendono a copiarli e cose di questo tipo, danno meno importanza all'attrezzatura anche se comunque è importante, ma non arrivano alla fase 5, che è la fase di svolta, la fase di maturazione, la fase di, come dire, una sorta di epifania, Adesso ci possono essere tantissimi termini per descriverla. Sostanzialmente è la fase in cui intanto l'attrezzatura diventa ancora meno importante e la tieni per parecchio tempo, cioè la cambi, sì, ma dopo parecchio tempo perché effettivamente magari ti serve uno strumento diverso oppure perché quello che hai è diventato un pochino obsoleto e così via. È una fase in cui paradossalmente si torna a stampare, cioè ricominci a produrre qualcosa, quindi stampi, fai dei fotolibri, non per forza stampe, diciamo, fai in arte, puoi stampare in diverse forme, magari fai dei fotolibri, insomma, cominci a rendere materica la fotografia. Studi gli autori, ma non più con l'occhio di colui che vuole ricreare quelle foto, cioè non fai finta di essere il Michael Ken di noi altri, cioè sei una persona che ha studiato Michael Ken e magari tramite le foto di Michael Ken ha rintracciato alcuni elementi che lo appartengono, cioè uno dice ok, questa cosa qui, la lunga esposizione, sento che è una cosa che mi appartiene, è una sensazione assolutamente come dire istintiva, cioè non è tanto razionale, non è che tu ragioni del perché la lunga esposizione ti appartiene, senti dentro di te di pancia che è quella cosa, una cosa che senti tua, così come magari le foto più o meno contrastate, con certi colori e così via, è una fase di scoperta, è una fase bellissima anche questa, proprio di riscoperta, di consapevolezza profonda, quindi il tuo focus è totalmente concentrato su di te per quanto riguarda la scoperta interiore e cominci, è una fase anche di inquietudine, cioè è una fase in cui ti rendi conto che se non fai fare una svolta al tuo concetto di fotografia rischi addirittura di abbandonare un po' la fotografia, è paradossale, cioè nel momento in cui tu senti di essere come dire maturo da certi punti di vista al tempo stesso dici no, io così non posso andare avanti, cioè non posso semplicemente continuare solo a fare delle belle fotografie, a fare magari sì qualche stampa eccetera eccetera, devo fare qualcosa in più, ed è una fase per pochissimi che cominciano a prendere consapevolezza che la fotografia non è un fine ma è un mezzo, cioè è uno strumento attraverso il quale tu puoi raccontare delle cose, puoi mostrare delle cose, quindi magari ti impegni in una creazione di un portfolio, di un progetto fotografico, magari cominci a capire che per evolvere la tua fotografia spesso devi guardare all'esterno, cioè dentro di te per quanto riguarda la crescita fotografica, ma devi guardare all'esterno nel capire che cosa ti appassiona, cosa ti piace della vita, magari sei un appassionato di moto, allora utilizza la fotografia per raccontare quel mondo, per fare foto appunto che riguardano una etero passione, insomma una passione diversa da quella fotografica, quindi una fase di svolta, di maturità piena, di una fase produttiva, cioè in cui la fotografia, nella quale la fotografia diventa uno strumento per un fine e non diventa più un fine. Quindi come visto il percorso evolutivo del fotomatore dal mio punto di vista ripeto sia il percorso interno ma anche perché ho visto tantissimi fotomatori è praticamente questo. Ora che cosa ragazzi permette di arrivare alla quinta fase se non diciamo la quinta dose perché è proprio un brutto periodo per dire la quinta dose comunque insomma è piuttosto complicato io vi dico già da adesso che il 70-80% rimane nel girone nel terzo girone a volte passano al quarto girone cioè in certi momenti ritornano ad essere consapevolezze che l'attrezzatura non fa tutta sta differenza però poi ricadono dentro purtroppo questo devo dire che c'è un magnetismo molto forte come dire creato a regola d'arte dal marketing moderno per cui diventa molto difficile quindi bisogna avere un'enorme passione sana quella profonda per vincere questo magnetismo che ti porta a rimanere attaccato a certi schemi mentali e come può fare questo? Ragazzi prima di tutto dovete essere veramente appassionati è la prima cosa perché guardate che il rischio è che quando uno non si evolve a un certo punto si ferma e si limita semplicemente alla bella foto poi a volte le famo lo strano poi a un certo punto veramente si rompe le balle e di punto in bianco molla la fotografia ne ho viste parecchie volte di queste cose quindi il consiglio che vi do il consiglio diciamo quello che ho osservato è che coloro che arrivano all'ultima fase sono persone che intanto probabilmente dentro avevano già questa sensazione di voler raccontare un po' il mondo lavorare insomma esprimere la propria visione ok quindi la volontà di esprimere la propria visione seconda cosa è molto importante lavorare a progetti questo è fondamentale ma non per ancora una volta semplicemente migliorare come fotografo no no proprio lavori a progetti perché ritieni che quella cosa sia importante e le persone la conoscano le sappiano sappiano che esista quella associazione quel fenomeno quel caso insomma esiste insomma ti dedica qualcosa fuori dalla fotografia è molto importante ragazzi studiare gli autori investire tantissimo in cultura fotografica veramente veramente importante andare a mostre fotografiche il più possibile insomma investire in cultura e concentrarsi ripeto sullo sviluppo di progetti questo è un passaggio fondamentale all'inizio avrete questa sensazione un po' di yo-yo vai un pochino avanti un pochino indietro poi a un certo punto però questo magnetismo diciamo negativo definiamolo in questo modo piano piano cessa e tu cominci a essere veramente libero ed essere un fotografo realmente immaturo realmente evoluto e poi ragazzi circondatevi di persone di un certo tipo cioè se rimanete a contatto con fotoamatori il cui unico fine è valutare i megapixel o che t'ha fatto la Nikon a 300% non si vede la grana quella roba lì ragazzi vi terrà ancorati quindi purtroppo questo ne riguarda solo la fotografia a un certo punto bisogna diventare un po' selettivi con le persone io non sto dicendo di rompere dell'amicizia ma sto dicendo di allargare le proprie amicizie cercando di entrare in ambienti che mentalmente sono un pochino più evoluti culturalmente sono un pochino più evoluti questo ti permette di vedere le cose da un'altra prospettiva sempre rimanendo assolutamente umili perché questo deve essere secondo me una caratteristica essenziale io ad esempio credo che le consulenze siano estremamente importanti perché ti permettono tanto di capire dove sei ma anche di aiutarti a prendere consapevolezza sulla tua fotografia su quello che devi fare quindi insomma avere un feedback di una persona competente è molto utile non sto dicendo dovete farlo con me per l'amore del cielo ci sono 10.000 persone con cui potete farlo però il concetto è trovate nuovi maestri in qualche modo che ti permettono di alzare veramente il tuo livello diciamo mentale e in questa fase questa è proprio la fase ragazzi conclude la riflessione fotografica nella quale si comincia a scattare della buona fotografia cioè ti accorgi che sei arrivato nella quinta fase quando la bella foto non ti basta più anzi capisci che a volte una bella foto in realtà non dice nulla è una foto apparentemente meno bella in realtà è molto più potente perché è una buona fotografia c'è dietro un pensiero c'è dietro un'idea c'è dietro una comunicazione c'è dietro una testimonianza quindi è una fase molto importante una fase dalla bella foto alla buona foto ma per capire questo devi lavorare necessariamente su te stesso confrontandoti con autori ripeto mostre insomma persone che già hanno fatto quel passaggio lì e quindi lì cominci a capire devi investire in cultura e in spessore personale questo è un po' il concetto va bene io vi ho raccontato un po' in chiave nuova insomma le fasi del fotomatore sono curioso in che fase sei cosa ne pensi di quello che ho detto aggiungeresti un'altra fase insomma aspetti i tuoi commenti se vuoi investire su te stesso e vuoi farlo con noi in descrizione trovi i link ai nostri corsi ciao ragazzi